Oggi Volant è un attore maturo, capace di dar vita anche a personaggi lontani dalla sua personalità che continuano ad arricchire l'interprete e l'uomo. Grazie. E questo sei tu. Cosa? Ti sei emozionato. È così. Voglio dire... Voglio ringraziarvi per questo video. È motivo di grande orgoglio per me, veramente. È stato... È stato davvero emozionante guardarlo. Tu sei molto legato alla tua famiglia. Che dolcezza. Poi vedere un uomo commuoversi è ancora più... Speciale. Grazie. 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 Grazie.